L'ASL Roma 3 ha avviato la campagna Operazione Scuola Sicura dedicata agli studenti del litorale romano. Circa 39.000 ragazzi dai 14 ai 19 anni hanno quindi la possibilità di effettuare gratuitamente il tampone rapito per il Covid-19 nei drevin dislocati nel territorio, uno dei quali è quello di Casalbernocchi. Nasce da un'organizzazione regionale e in tutte le ASL c'è la possibilità di effettuare uno screening tramite tampone rapido presso i nostri drevin, ognuno ha i propri centri di vaccinazione e di tamponi e in questo caso noi abbiamo per esempio Casalbernocchi e Forlanini perché così accontentiamo tutte sia la litoranea che la parte centrale e come funziona? Ci si prenota attraverso il sito regionale che è un portale che sarebbe prenota drive.regione.lazio.it basta il codice fiscale, è gratuito ed è su base volontaria. La fascia d'età è 14-19 anni e dura per tutto il periodo di gennaio, diciamo che nasce con un'idea importante. I giovani sono quelli che magari sono stati più a soggetto di assembramenti, possibili incontri e proprio per questo motivo c'è stata questa intenzione, questo maggiore interesse verso una fascia d'età particolare quale 14-19. I risultati sono buoni, abbiamo iniziato il 4 gennaio e da quel giorno abbiamo dai 200 ai 250 ragazzi che si prenotano e quindi che effettuano lo screening ci auguriamo di arrivare al massimo dello slot che è di 320. È importante, fa parte di tutto questo sistema che noi abbiamo messo in campo per ridurre al massimo i contagi, le positività in un momento in cui si inizia a sperare che è quello dell'inizio delle vaccinazioni, che porta il Lazio a essere primo nel quale regione d'Italia e come si diventa primi? Perché c'è una squadra, perché c'è un grande lavoro di regione, aziende, operatori che hanno lavorato, e lo voglio dire, con grande orgoglio i giorni festivi e non hanno mai smesso. Quindi dal giorno 27 questa ASD, ma tutte le ASD della regione e le aziende ospedaliere non hanno mai smesso di attivare i centri vaccinali. A febbraio le vaccinazioni saranno estese agli oltreottantenni, d'aprile agli over 60. L'obiettivo, ha commentato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, è quello di aver immunizzato 1.600.000 persone per giugno.